In questa maniera, a mio parere, a volte dissennata, bene, quel tot in più che loro dovrebbero pagare lo destiniamo alle nostre aree marine protette, alle riserve marine. Facciamo dei progetti di disinquinamento del mare, facciamo qualche cosa di concreto per il nostro mare. Le nostre aree marine protette soffrono, io sono vicepresidente di Torre Guaceto, perché non abbiamo finanziamenti. Volete continuare a produrre così? Bene, fateci capire come possiamo sperimentare una reale economia circolare, che al momento non c'è. Non c'è.